Proseguono senza sosta le indagini sul duplice delitto di Pordenone. Nel proettile rimasto incastrato nella pistola che ha ucciso i fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza è stata trovata un'impronta parziale. Al vaglio dell'IS di Parma adesso l'analisi della traccia che comunque, secondo gli esperti, non sarà di facile interpretazione. Nei giorni scorsi i carabinieri del reparto investigativo scientifico avevano prelevato le impronte digitali dell'unico indagato per il duplice omicidio, ovvero il caporal maggiore Gesù e Ruotolo. Intanto l'appartamento dove viveva lo stesso Ruotolo e altri suoi commilitoni è stato dissequestrato. Sul fronte dell'identificazione dell'automobile a incastrare il Ruotolo sarebbe stato un piccolo peluche posizionato sul cruscotto dell'auto. Infatti le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l'Audi A3 di colore grigio con un peluche a bordo.